Porta aperte magistrali, un'iniziativa che oramai abbiamo da tanti anni e che vuole offrire la possibilità agli studenti che stanno terminando le lauree triennali di conoscere e di avere contatti con quelle che sono le realtà delle lauree magistrali che abbiamo qui nel nostro Ateneo. Tre giornate il 27, 28 e 29 aprile per incontrare i docenti e gli studenti dell'Università di Trieste e la porta aperta per i corsi magistrali attraverso il sito dell'Ateneo è possibile iscriversi nelle modalità in presenza o a distanza. Penso che un'università delle medie dimensioni come la nostra permette un ottimo rapporto docenti-studenti, quindi permette una reale frequenza, una reale formazione a contatto diretto con i docenti, permette la possibilità di tirocini ben fatti in tante aziende, in tante realtà in cui c'è la possibilità di lavorare in maniera attiva e di fare una prima esperienza lavorativa e di formazione al tempo stesso. Quello che vediamo poi è che i nostri studenti hanno delle ottime possibilità lavorative appena terminata la loro carriera universitaria. L'offerta dell'Università si arricchisce con nuove attivazioni di corsi in geofisica e geodati e in scienze per l'ambiente marino e costiero che rinnovano tradizioni ben radicate a Trieste. Il corso in geofisica e geodati è un corso che riapre un'antica tradizione triestina nella formazione sulle scienze della Terra, una tradizione che ha circa 100 anni, ma in realtà apre una finestra interamente nuova sulla formazione in questo campo perché coniuga le scienze più tecniche, quelle della geofisica, con quelle nuove della scienza dei dati. In questo è un'offerta unica nel panorama nazionale, è un risultato di una cooperazione di tre dipartimenti, dipartimento di matematica e geoscienze, di ingegneria e di fisica e unisce anche le collaborazioni con gli enti del territorio, quindi l'Istituto Nazionale di Oceanografia Geofisica Sperimentale e l'International Center for Theoretical Physics. È un settore che ha una grandissima attrazione nel campo del lavoro, infatti noi abbiamo più richieste di quanti non siano gli esperti che riusciamo a formare attualmente e questa è una delle forti motivazioni dell'istituzione di questa nuova offerta. Trieste ha una tradizione che risale alla fine dell'Ottocento per gli studi sull'ambiente marino e fino a circa dieci anni fa esisteva una laurea magistrale in biologia marina. Ora vogliamo rinnovare questa tradizione evolvendo la figura del biologo marino con una competenza più trasversale, proprio atta alla gestione dell'ambiente marino e costiero. Siamo in un'area che insiste su un spicchio di mare con tre porti, turismo e quindi la figura che vogliamo creare è una figura che possa relazionarsi con le pubbliche amministrazioni che gestiscono questo ambiente marino. Grazie a tutti.